conoscete le vostre fotocopiatrici e le vostre stampanti sapete quante pagine stampano copiano o faxano ogni mese sapete chi le usa e perché la vostra struttura le subisce come un costo ne realizza profitti equi track consente di registrare le vostre attività di stampa coppia e trasmissione fax di scoprire come migliorare la produttività dei dipendenti di ridurre i costi e aumentare i ricavi equi track fornisce sofisticate soluzioni di gestione della stampa compatibili con tutti i dispositivi di tutti i principali produttori che consentono di controllare come dove e quando le vostre stampanti vengono utilizzate equi track può fornire un importante contributo alla vostra azienda mediante tre importanti strumenti l'autenticazione che vi consente di individuare gli utenti prima che accedano alle fotocopiatrici e alle stampanti l'autorizzazione che vi permette di controllare le operazioni che può eseguire ogni utente alla fotocopiatrice o alla stampante la gestione contabile che vi consente di registrare e rendicontare automaticamente tutte le operazioni eseguite al dispositivo mettendovi in grado di prendere le decisioni più adatte per le vostre stampanti e fotocopiatrici e i relativi utenti in definitiva grazie a queste funzionalità riacquisite il controllo delle vostre stampanti e fotocopiatrici ad esempio potete guidare i dipendenti all'uso del dispositivo più adeguato per ogni processo potete impedire a determinati dipendenti di usare la stampa a colori e registrare i costi per consentire una gestione contabile o un recupero dei costi dettagliati equi track consente di eliminare le stampe inutili o che comportano sprechi ridurre il numero di chiamate al servizio di assistenza it e sfruttare numerose altre funzionalità le stampe vengono distribuite con l'eslusivo sistema iq che rendendo possibile la gestione di stampa in ambienti misti senza e o con server di stampa ne permette la riduzione la nuova interfaccia green reporting fornisce una misurazione completa di tutti i risparmi in termini ambientali e di costi a livello della rete di stampa grazie alle soluzioni equi track potete contare su un'integrazione ottimale con le vostre fotocopiatrici e stampanti attuali e la vostra dotazione informatica esistente accompagnati da un'assistenza e un supporto globale che sono per dimensione ed efficienza impareggiati ogni giorno equi track consente ai nostri clienti di monitorare e gestire i costi di stampa imporre l'autenticazione per garantire la sicurezza e la riservatezza dei documenti e di ridurre al minimo l'uso improprio della carta al fine di rispettare l'ambiente equi track può fare lo stesso anche per voi